Il maltempo al nord Italia, con i relativi disagi alla circolazione, ritarda anche la consegna dei vaccini Pfizer-BioNTech. In Piemonte e Liguria, a causa delle abbondanti nevicate, slitta la consegna delle dosi previste per continuare la campagna vaccinale, rispettivamente al 30 e al 31 dicembre. Intanto continua la polemica sulla Germania, che ha stipulato un accordo bilaterale con Pfizer per avere molte dosi in più rispetto a quelle previste dal piano dell'Unione Europea. E in Italia, mentre si attende il via libera agli altri vaccini, in particolare quello a AstraZeneca, si dibatte sull'obbligatorietà o meno del vaccino. Dopo Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, che si è detta a favore dell'obbligo per i dipendenti pubblici, il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista alla stampa, ha ribadito che per sconfiggere il virus serve un'adesione di massa. Al momento non è prevista alcuna obbligatorietà per il vaccino, ha sottolineato. Ma se nei prossimi mesi, con più dosi e più vaccini disponibili, la campagna di vaccinazione non dovesse raggiungere i due terzi della popolazione, allora si dovrebbero prendere delle contromisure. Come imporlo?